La indifferenza che c'era all'inizio dell'incontro, anche adesso Shekinet, si è tramutata in empatia, qualcosa che li ha resi molto vicini e li ha cambiati, perché in realtà lui può cambiare un libro, la lettura di un libro, di qualsiasi libro, e quindi è questo, questo è il significato, è quello che vorrei che tante due giorni non si trasmettesse.